Il 7 e l'8 luglio torna ad Aglie, quella che è la manifestazione clou del Paese, che quest'anno cambia anche nome. Esattamente, abbiamo tolto le stelle, quest'anno si chiamerà Calici, una scelta voluta e motivata, soprattutto dal fatto che spesso il nome veniva anche un po' distorto, Calici di, Calici tra, Calici sotto. Quest'anno, visto che la maggior parte dei nostri ospiti la identificava come Calici, abbiamo deciso di cambiare proprio la comunicazione, quindi Calici, gusto e cultura, un nome più breve, riteniamo più incisivo e sicuramente in linea con quelle che sono le nuove linee, le novità che avremo a partire appunto da questa edizione. Un'edizione che comunque è ancora più ricca, si presenta ancora più ricca, perché in questi anni Calici è veramente cresciuto. Quali sono le novità? Beh, intanto diciamo quello che è rimasto uguale, perché è fondamentale. La manifestazione è un evento che si basa sulla valorizzazione del prodotto enogastronomico, quindi quello che non varia sicuramente è la valorizzazione dei vini locali, che la faranno come sempre da padrone, e di tutti quei prodotti di piccoli produttori, alcuni maestri del gusto slow food, o comunque produttori di prodotti di nicchia, che appunto messi insieme i vini potranno far sì che i nostri ospiti possano così godere e costruirsi un percorso enogastronomico a loro piacimento di altissima qualità. Quello che cambierà invece sono ovviamente tante altre, diciamo, questioni di contorno, a partire dallo spettacolo. Per molti anni ci ha affiancato uno spettacolo di circo, con diversi interpreti, ma la tipologia è sempre stata questa. Quest'anno torniamo al concerto, quindi un evento concertistico da parte della Sweet Life Society, che intratterrà, insomma, per gran parte della serata tutti i nostri ospiti. A questo verranno affiancati, diciamo, anche un DJ set per coprire la parte iniziale e finale della serata, gestito da Disco Vintage. E poi avremo altre performance artistiche, avremo due performance teatrali con due artisti che si chiamano Daigoro, che farà appunto degli spettacoli di intrattenimento tra i tavoli, e Madame Flute, una grandissima interprete con un abito costellato di calici che verranno distribuiti al pubblico. Poi avremo una forma artistica di altissima levatura che si chiama Enoarte. La pittrice è una pittrice di fama internazionale, si chiama Elisabetta Rogai di Firenze, ha brevettato una tecnica attraverso la quale estrae il pigmento dal vino. Gli abbiamo già fornito una bottiglia di vino rosso canavesano del Consorzio dei produttori Erbaluce e Vini del Canavese e quella sera dipingerà su un piatto di ceramica di Castellamonte, quindi un modo anche per, in questa forma artistica, a far comprendere quello che è il legame che ci lega a Castellamonte, a San Giorgio Canavese, nel Festival delle Reciprocità e nelle Tre Terre Canavesane, in cui ovviamente Calici è inserito. Parlando di personaggi, ci sarà un testimonial d'eccezione? Due, direi, testimonial d'eccezione. Avremo due grandissimi ospiti. Il primo è Peppone Calabrese, conduttore Rai di Linea Verde, che da quando ci ha conosciuti ormai un paio d'anni fa si è letteralmente innamorato delle Tre Terre Canavesane, è diventato un nostro supporter e sarà presente la sera di Calici e sarà anche presente la sera precedente, anche se solo in streaming, in collegamento in call, per il convegno sul tema del cambiamento climatico che avverrà appunto il giorno precedente, 7 di luglio, presso il Salone Franco Paglia alle ore 18. Con lui l'altro grande ospite, molto noto ai più, è il maestro Beppe Vessicchio, un nome che colleghiamo tutti in quanto celebre, storico maestro durante il Festival di Sanremo. Negli ultimi anni ha iniziato a produrre vini. Il suo vino sarà ospite alla nostra manifestazione e lui sarà presente fisicamente sia il giorno del convegno, quindi lo potremo ascoltare nelle introduzioni del convegno del 7 sui cambiamenti climatici, mentre invece la serata dell'8 sarà con noi in piazza e sarà assolutamente nostro testimone all'eccezione. Costo invariato di ingresso rispetto alle scorse edizioni? Sì esattamente, il biglietto d'ingresso costa 8 euro, negli 8 euro è compreso un calice, un sacchetto portacalice e ovviamente la partecipazione a tutti quelli che sono gli spettacoli della serata. Per quanto riguarda le degustazioni è possibile acquistarle alle casse interne, previsto pagamento con Bancomat, con Satispay e in contanti, ma solo per le casse interne. Ricordo che per quanto riguarda l'ingresso si potrà solo entrare attraverso pagamenti elettronici. È possibile acquistare in prevendita, che è cosa che consiglio a tutti, sul sito di Evianz, sul materiale di comunicazione, presente un QR code di collegamento diretto, e lo consiglio in quanto attraverso questo sistema si potrà saltare la coda all'ingresso. Sarà anche possibile arrivare su Allie da Torino, da Torino-Portasusa, infatti ci sarà una navetta che è ovviamente gratuita, su prenotazione e fino a esaurimento posti. Questo servizio è un servizio messo a disposizione da città metropolitana, grazie alla collaborazione che abbiamo con loro, e attraverso appunto il progetto PUMS collegherà non solo Calici, ma tutti gli eventi del Festival della Reciprocità al nostro capoluogo, con ovviamente un servizio di andata e ritorno. Questo è un servizio che riteniamo molto importante anche da un punto di vista simbolico-ambientale, perché è pur vero che non potremmo trasportare grosse masse di persone da Torino al Canavese, ma è altrettanto vero che attraverso questo servizio si può dare un segnale rispetto all'importanza dei collegamenti tra il territorio e il capoluogo, e soprattutto dei collegamenti sostenibili, perché ricordiamo che una navetta che si muove emana molta meno CO2 rispetto a molte auto che si spostano. E questa è un po' una chiave che vogliamo dare alla nostra manifestazione. Da quest'anno all'interno del Festival abbiamo deciso di lavorare sul tema della sostenibilità. Ricordo che pochi mesi fa si sarebbe dovuto tenere la fiera della sostenibilità partendo dai trasporti, purtroppo un programma interrotto a causa del maltempo, ma che riproporremo nel mese di ottobre, e di sostenibilità si deve parlare anche a Calici. Quindi il nostro obiettivo, che è un obiettivo chiaramente a tendere, che certamente non riusciremo ancora a raggiungere quest'anno, ma speriamo di poter raggiungere presto nelle prossime edizioni, è quello di avere una manifestazione a emissioni zero. Di conseguenza tutte le azioni organizzative saranno mirate a limitare tutti quei comportamenti che non sono così idonei rispetto a questo obiettivo che ci siamo dati. A partire dalle stoviglie, che saranno tutte completamente compostabili, le bottigliette in plastica, che saranno limitate solo ad alcune bibite, per le quali non si può fare diversamente, ma avremo dei boccioni d'acqua di distribuzione messi a disposizione da Smat, e a tanti altri comportamenti virtuosi che avremo la possibilità di mettere in atto e che sicuramente miglioreranno edizione dopo edizione. Vi aspettiamo 15 a Calici il 7 e 8 luglio. Ricordo il 7 ore 18 presso il Salone Franco Paglia il convegno sul tema dei cambiamenti climatici e la sera dell'8 i cancelli apriranno alle 19 per potervi far godere di una bella serata in nostra compagnia con gli spettacoli che abbiamo organizzato per voi e fare tante degustazioni conoscendo, scoprendo, approfondendo l'enogastronomia locale. Viva! Salute! Viva il canadese! Viva il paluccio! Grazie. Ciao.